Ciao a tutti, io sono Aaron Sabadin, benvenuti in un altro appuntamento di 4Mobiles dove oggi effettuerò l'unboxing di un prodotto di casa Kensington. Il prodotto in questione è un foglio with cable for iPad Air che si chiama Keyfolio Pro. Questo prodotto serve a far diventare il nostro iPad un piccolo computerino portatile. Adesso effettuerò l'unboxing senza perdere altro tempo per vedere come è fatto questo prodotto. Vediamo la qualità del packaging che è molto fine, molto bella. Abbiamo questo cartonato magnetico. Noi apriamo, vedete, Kensington Smart Safe Sample. Noi tiriamo fuori la nostra confezione che è in pelle, bellissima questa pelle qua. Vedete, abbiamo già la tastiera ben confezionata. Estraiamo il nostro Keyfolio. Come potete vedere, anche questa cosa qui, questo lacetto qua è magnetico per poter tenere chiuso tutto, perché ovviamente l'iPad e la tastiera avranno un determinato peso, una volta che sono inseriti. Vediamo fuori il filtro iPad, dietro c'è un semplice astuccio in carta dove troviamo il caricabatterie con micro USB. Riuscite a vederlo? Zoom un po', vedete? E la nostra fantastica custodia in pelle. Vi faccio un attimino fare un giro, non troppo perché, come potete vedere, è nera, non si vede bene. Vedete che qua c'è scritto Kensington in impressione. La pelle è molto fine. La tastiera è con una base, con le calamite. questa è la tastiera. Che altro dire? Niente, farò a breve una recensione con l'iPad Air, quindi potete vedere effettivamente tutte le sue funzionalità. E niente, da Aaron Sabading è tutto. Vi ringrazio per la cortesia e attenzione. Vi ricordo che alla fine di questo video ci saranno i link per tutti i nostri social. E niente, alla prossima! Grazie a tutti!